Sarà il procuratore capo di Catanzaro Vincenzo Antonio Lombardo, l'operatore d'oro 2015. L'alto magistrato sarà insignito del premio, aggiunto alla sua non edizione, conferito dal prestigioso liceo classico Michele Morelli di Vibo Valencia in collaborazione con il liceo scientifico Giuseppe Berto, il liceo linguistico e di scienze umane Vito Capialbi, l'istituto professionale per i servizi del turismo e del commercio e con l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato. Anche altri magistrati, da Marisa Manzini fino a Nicola Gratteri, erano stati insigniti dell'operatore d'oro, nato come attestato di riconoscenza della società civile e della scuola vibonese a coloro i quali sono impegnati in prima linea per l'affermazione dei valori di legalità del vivere civile e della valorizzazione della cultura. Il premio sarà consegnato dal dirigente scolastico Raffaele Suppe e dai colleghi lunedì prossimo nel corso di una cerimonia che si svolgerà a partire dalle 9.30 e che sarà ospitata nell'auditorium della scuola lievi agenti di polizia. Magistrato di lungo corso, Lombardo ha svolto gran parte della sua carriera a Reggio Calabria. Sopraffine conoscitori del diritto ha speso gran parte della sua vita contro l'Andrangheta, conducendo in prima persona indagini che hanno assestato colpi tremendi alle cosche del circondario di Catanzaro e alle loro proiezioni extra-regionali destre.